Emmett Walker è un produttore di 42 anni che per lavoro aiuta i cantanti a trovare la loro strada. Lavora in un'importante casa discografica negli Stati Uniti e lavora veramente sodo. Spesso si fa dalle 10 alle 14 ore in studio soltanto per concludere dei progetti incompleti che in realtà potrebbero essere anche completati più in là. Ma per Emmett le scadenze sono importantissime, preferisce arrivare in anticipo piuttosto che tardare di un giorno. La sua dedizione un giorno però lo ha portato a stancarsi più del dovuto con forti mal di testa che sono durati i giorni. Per questo motivo decise di prendersi una tranquilla vacanza in Repubblica Dominicana per bere drink su una piscina e farsi un giro serale delle spiagge con tranquillità. Nulla di eccezionale, solo tanto buon riposo. Ed è proprio perché pensava solo di riposarsi che non si aspettava una signora facesse una sceneggiata e li impedisse di andare a prendere il suo volo di prima classe. Emmett aveva infatti preso la prima classe per togliersi uno sfizio che aveva da anni. Ma una signora dal nulla ha cercato di impedirglielo, a tutti i costi. Il motivo rimane ignoto, ma la risposta di Emmett ha conquistato internet. Così, la mattina della partenza, si è svegliato molto carico. Voleva assolutamente quella vacanza e stava già pensando alle meravigliose spiagge in cui avrebbe camminato e ai cocktail che avrebbe tenuto in mano. Una visione che aveva da quando aveva comprato i biglietti. Il tragitto in macchina fu molto tranquillo, con strade vuote per via del fatto che fosse mattina molto presto. Lui era uscito prima proprio per evitare di farsi venire mal di testa anche dal traffico, oltre che dal troppo lavoro. L'aeroporto brulicava di persone, nonostante tutto. Pensava di essere tra i pochi a partire la mattina, ma in realtà tanti altri avevano avuto la sua idea. C'erano bambini che giravano correndo, genitori che li inseguivano con le valigie, coppie felici di poter probabilmente trascorrere le loro giornate in un altro paese prima di tornare a loro. Insomma, l'atmosfera era quella giusta e aveva moltissimo tempo prima del volo, quasi tre ore e mezza. Fece prima colazione in un bar e poi andò con calma alla fila per il check. Mancava molto, quindi sarebbe rimasto seduto per non perdere la fila. Dopodiché Emmett ha cominciato a vedere le prime persone arrivare. Tra loro c'era una donna che non sembrava molto felice dallo sguardo che aveva e dal volto scuro. Emmett pensò fosse frustrata per via del fatto che lui fosse arrivato prima e non ci fece tanto caso. Allo stesso tempo però vide che le file erano più di una, quindi sicuramente nessuno avrebbe potuto lamentarsi e quindi si chiese per cos'altro fosse frustrata la donna. Dopo cinque minuti di riflessioni arrivarono altre persone. Per lo più erano in fila per la classe economy e dietro Emmett erano in pochissimi per la business. Si prospettava quindi un viaggio sereno e tranquillo con nemmeno troppe persone. Lui aveva scelto quella data apposta. Un suo amico in un'agenzia di viaggi gliela aveva suggerita perché era la data dove c'erano poche persone. In pochi facevano viaggi in quella settimana, specialmente perché erano quasi tutti ancora a lavoro. Emmett quindi un'ora prima dell'apertura del check-in decise di prepararsi. Mise via tutte le cose che aveva in mano in quel momento, il suo maglione, la sua Nintendo Switch e altro ancora, per poi mettersi in piedi, in modo da andare completamente senza alcun tipo di ingombro. La signora dietro di lui ancora non sembrava molto felice, ma la ignorò. In che all'improvviso non cominciò a parlare ad alta voce al telefono. Fu una scena fastidiosa, non solo per Emmett ma anche per altri. Continuava a urlare e dire che non ne poteva più e che il viaggio l'aveva stancata prima ancora dell'inizio. Sembrava un viaggio di lavoro, secondo le sue parole. Ma qualunque fosse il problema, Emmett pensò che urlare fosse troppo. C'erano tante persone ed era ancora mattina, quindi era disturbante la cosa. Per fortuna infine arrivò una hostess e le disse di parlare più piano. Lei però, con un broncio ancora più scavato, disse che non stava parlando forte. Anzi era tranquillissima. Dopodiché la hostess se ne andò, chiedendole di non alzare la voce ulteriormente. Lei, con fare frustrato, le disse ok. Come se la colpa fosse degli altri che avevano le orecchie e non sua che parlava a volume alto. Dopo quella strana scena, finalmente Emmett poteva prendere i suoi biglietti e lasciare la valigia grande. La piccola l'avrebbe portata con lui ai controlli, così andò molto contento ai controlli di sicurezza, ormai era quasi fatta dopo tutto. Anche se non sapeva cosa stava per succedere in realtà. Il cammino per arrivare alla zona dei controlli fu strano. A quanto pare la donna di prima lo stava quasi seguendo, come a volerlo superare. Per arrivare prima, ma Emmett non ci stava e accelerò il passo. Sembrava pure avercela con lui, ma non ci fece caso più di tanto all'inizio. Infine era arrivato e c'era anche qui più di una fila per il controllo. Quindi tutta quella gara non serviva a niente, e la donna lo aveva anche guardato male, come se fosse stata colpa sua per qualsiasi cosa. Ma pure ai controlli la signora ebbe qualcosa da dire e fare. Mentre una persona stava controllando la sua valigia, perché a quanto pare troppo pesante, lei urlava di fare più piano e di stare attenti a non danneggiare niente. Continuava a urlare facendosi notare praticamente da chiunque, ma non solo. Continuava a dire che non c'era niente di illegale e che non era di sicuro lei la criminale, come se potesse essere qualcun altro. Ma nella valigia c'erano delle bottigliette di plastica. Tante bottigliette che non erano consentite e avevano aumentato il peso di quasi due chili. Erano così tante che la signora disse era semplicemente per la sua disidratazione precoce e quindi ne aveva bisogno. Ovviamente gliele avevano buttate via, mentre lei continuava a dire di no e che era ingiusta la cosa. Infine cominciarono ad attendere con pazienza l'imbarco al gate. La signora era molto arrabbiata e si notava in volto. Mancava circa un'oretta. Emmett invece era molto emozionato. Alcuni erano già in fila nell'economy per prendere il loro posto, mentre nella business class non c'era nessuno. Finché 20 minuti più tardi non è andato Emmett a posizionarsi di nuovo primo. Ma qui successe una cosa che fece scattare a Emmett una foto da mettere sui social. Una foto dove ha raccontato la sua storia con la signora. La donna di prima, che aveva creato tanti problemi, una certa Sharon, si era messa in fila dietro di lui. E dopodiché tanti altri erano arrivati, ma lei all'improvviso ha cominciato a passare davanti a Emmett. Le altre persone guardandola sono rimaste incredule. Con una camminata molto sicura e con un sorriso ha toccato pure le braccia di Emmett con le sue, pur di farsi spazio e stare davanti. Emmett incredulo chiese cosa stesse succedendo, perché lo stesse spingendo. Mi scusi ma cosa sta facendo? Lui le aveva anche fatto spazio perché sembrava quasi volerlo buttare giù. Lei non dovrebbe stare qua. Questa è la priority per i business class. La economy apre all'orario preciso, quindi manca ancora tanto, disse Sharon con un sorrisino. Emmett era incredulo. Aveva faticato per avere quei posti. Aveva lavorato giorno e notte, quindi come poteva dire una cosa del genere. Così Emmett replicò. Guardi che io ho pagato per stare qua e mi sono alzato anche prima di lei. Sono arrivato prima di chiunque altro per questo volo, quindi per piacere non salti la fila. Quindi mostrò il suo biglietto e perfino lo scontrino con il pagamento. La donna un po' incredula notò gli sguardi degli altri addosso e se ne andò indietro. Emmett era contento di aver risolto, ma non era finita. La donna infatti aveva continuato a parlare alle sue spalle dicendo a un'altra signora, sicuramente un militare o una persona con qualche tipo di privilegio. È impossibile che abbia pagato da sé il biglietto. Emmett, sentito il discorso, le ha risposto in un modo incredibile. No, non sono un militare, ma sono solo un nero con tanti soldi. In realtà ha usato la parola dispregiativa di nero, utilizzata di solito per offendere, così da enfatizzare meglio la sua frase. Una famiglia dietro si è messa a ridere e ha dato ragione a Emmett e Sharon è rimasta in silenzio per tutto il tragitto con la testa abbassata. Emmett si è pure fatto un selfie per mostrare la sua sconfitta. Incredibilmente nemmeno si è più azzardata a rispondere ad altri. L'umiliazione l'aveva lasciata del tutto amareggiata. Infine Emmett si è potuto godere la sua prima classe. Fortunatamente non aveva nessuno vicino, in quanto il volo non era del tutto pieno. Arrivato a destinazione si è fatto la migliore delle vacanze dopo aver scoperto anche che la sua foto era diventata virale. Così come la sua storia. Alcune persone hanno commentato dicendo che c'erano all'aeroporto e avevano visto la signora impazzire e sbeffeggiare alla minima cosa. Addirittura anche un militare aveva commentato dicendo che non venivano dati i voli di prima classe ai militari soltanto perché erano soldati. Quindi anche quest'ultima affermazione di Sharon era completamente sbagliata. Emmett non capisce ancora oggi perché si è comportata in quel modo. A volte pensa sia per razzismo ma nel 2024 anche lui ritiene e ciò una cosa strana. Perché se fosse così veramente vorrebbe dire che alcune persone ancora non hanno imparato che il mondo è grande ed è pieno di culture da vivere e imparare. Sa solo che prima o poi tornerà a fare un altro bel viaggio in prima classe sperando però di trovare altre persone nel suo cammino stavolta. E voi avete mai incontrato una persona così problematica durante i vostri viaggi? Fatemelo sapere nei commenti e alla prossima gente! Ciao!